Nel finale abbiamo provato a creare qualche occasione per portare a casa i tre punti, però siamo stati bravissimi a riuscire a capire a un certo punto che sarebbe stata dura portarne tre e siamo stati bravi ad accontentarci di uno in una partita in cui abbiamo disputato un primo tempo attento, limitato gli avversari che avevano delle ottime qualità e nel secondo tempo abbiamo creato qualcosina rischiando poco e portando a casa un punto che ci fa fare un passo avanti importante. Affrontiamo un avversario forte, avremmo voluto provare a vincere, non ci siamo riusciti e portiamo a casa questo punto sapendo che facciamo un passo in avanti perché se fossimo stati capaci di farlo anche in altre occasioni sicuramente saremmo stati più contenti. Salvatore ha giocato a Perugia dopo che non giocava da 10-11 partite, a parte la gara di Coppa Italia. Perugia è stata una partita faticosa, su un campo difficile e quindi ho pensato che forse oggi era meglio provare un'altra soluzione, quindi Mattia si è fatto trovare pronto e siamo stati bravi a saper limitare degli avversari che anche in passato hanno dimostrato di saper essere molto molto pericolosi, soprattutto in trasferta. Abbiamo provato a limitare gli avversari, delle volte siamo stati bravi a provare a ripartire però con qualche errore di troppo non siamo stati in grado di farlo. Nel secondo tempo abbiamo alzato un po' il baricentro, abbiamo provato a vincerla ma di fronte, ripeto, avevamo un'ottima squadra e siamo contenti di aver ottenuto un punto. Oggi siamo contenti del risultato, noi ci paragoniamo spesso a questo tipo di squadre ma a me non piace parlare di classifica né fare paragoni, sapendo che in questo campionato ci sono delle squadre che sono abbastanza importanti e queste che hai nominato credo che abbiano delle qualità di livello. Noi abbiamo le nostre, non guardiamo classifica, non guardiamo avversari e proveremo a continuare a fare i punti per scoprire fra qualche mese in che posizione di classifica ci troveremo e provare a migliorarla.